Una conferenza dei servizi permanenti sulle scuole che possa riunirsi ogni due mesi con tutti i dirigenti scolastici, provincia e comune, per intervenire tempestivamente sulle criticità. Manca una pecca dedicata ai dirigenti per segnalare problemi e la proposta poi di chiudere alle auto nei pressi degli istituti scolastici. La tragedia dell'asilo primo maggio, al di là delle responsabilità individuali, ha riproposto in tutta la sua crudezza le problematiche di sicurezza che coinvolgono gli istituti cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso, ingressi e uscite. La Commissione Garanzie e Controllo, come ultimo atto prima delle lezioni, ha voluto mettere attorno allo stesso tavolo i dirigenti delle superiori e dei comprensivi, per aprire un percorso che possa anche prevenire eventuali situazioni di pericolo. L'Aquila ha 49 edifici scolastici. Le criticità più grandi sono state riscontrate a Colle Sapone, dove c'è la maggiore concentrazione di studenti. Una delle proposte venute fuori è quella di chiudere i cortili delle scuole, anche per docenti e personale, ma va rivista la situazione parcheggi. Una delle soluzioni avanzata da Massimo Prospero Cocco del Comitato Scuole Sicure potrebbe essere quella di istituire delle piccole isole pedonali a orario durante ingressi e uscite. I dirigenti scolastici, sia delle superiori che degli istituti comprensivi, hanno evidenziato quali possono essere le problematiche nella promiscuità di utilizzo dei cortili, appunto, degli spazi comuni all'interno delle scuole. Anche, per esempio, il pomeriggio, quando le palestre vengono utilizzate da società esterne. La conferenza dei servizi permanente permette di evitare le scartofie, permette di evitare che i dirigenti scolastici scrivano, aspettano una risposta, arriva la mail e non arriva. C'è anche una mail dedicata, questo almeno hanno chiesto e noi abbiamo accordato e in più abbiamo proposto questo tipo di soluzione al Consiglio Comunale che ieri ha votato all'unanimità una mozione. Non è un'attività preelettorale, è un'attività ordinaria e sono contento che, come Presidente della Commissione di Garanzia e controllo, l'ultimo atto sia stato quello di poter permettere ai dirigenti scolastici e di poter utilizzare una conferenza dei servizi dove poter lamentare le cose che non vanno e trovare delle soluzioni immediate, perché lì ci saranno non i politici ma bensì i tecnici. La problematica delle scuole è molto sentita. Dopo 13 anni le uniche due scuole ricostruite sono quella di Arischia e la Malia dei Ventri. Le altre sono nei MUSP, per questo il Comitato Scuole Sicure oltre il MUSP hanno convocato un'assemblea aperta venerdì prossimo alle 17 alla Villa Comunale.